Colleghi, il Consiglio regionale molto faticoso ma molto fruttuoso è terminato. Io ringrazio i colleghi di opposizione che hanno permesso con serietà che in un solo giorno si facesse la finanziaria della Regione Abruzzo come si deve. Ringrazio i colleghi di maggioranza che con il loro lavoro hanno permesso di migliorare la finanziaria. Ringrazio il Presidente Marsiglio per la consueta pazienza. Ringrazio l'assessore Liris, i suoi funzionari, il Dottor Bernardini e il Dottor Giannangeli. Auguro ai miei colleghi che sono in quarantena di uscire presto e a tutti voi e agli abruzzesi buon anno. Tra tante chiacchiere la Regione Abruzzo ha la sua finanziaria, è una Regione in equilibrio, ci sono tanti investimenti, ci sono 49 milioni di meno a disposizione ma non ci sono tasse aumentate. Grazie.